ben trovati di nuovo nel nostro studio per la rubrica confronti la rubrica dedicata ai consiglieri provinciali questa mattina come sempre sono due i nostri ospiti iniziamo a salutare Alessandro Savoi buongiorno buongiorno a tutti e ben tornato perché è tornato da pochissimo in consiglio sì in effetti sono rientrato la settimana scorsa in consiglio provinciale perché come sapete Fugatti mio collega il segretario della Lega è andato a Roma onorevole quindi prendo il posto fino a ottobre quando saranno le rinnovo del consiglio provinciale quindi sono onorato alla Lega di questo e sono anche consapevole che sostituire Fugatti che da solo perché la Lega purtroppo è un solo rappresentante all'interno del consiglio provinciale non sarà semplice perché la competenza di Fugatti è la capacità che ha dimostrato anche questi anni. Adesso ne parliamo Savoi un po' approfonditamente mi permetta di salutare anche il secondo ospite che è Walter Viola. Buongiorno. Benvenuto Viola un altro consigliere esperto non so che sia più esperto dei due forse hai fatto più sedute Viola 2003 2008 2013 Savoi la prima quando era? Da 2008 2013 ho fatto la portata di tesi. Viola se la gioca come numero però insomma due consiglieri molto esperti tutti e due. Ecco appunto stavamo parlando di questa surroga in consiglio no? Sì no. Fugatti ha lasciato un'eredità importante. Ripeto perché sono da solo perché rappresento quindi il gruppo e il partito e perché appunto le capacità le ho dimostrato e anche perché come Lega se anche siamo da solo in consiglio rappresentiamo la base del voto del 4 marzo anche tante migliaia di trentini che hanno diciamo premiato la Lega e quindi sappiamo consapevoli che oggi la Lega sta viaggiando bene in Trentino e quindi di buon aspiccio anche per quanto riguarda il voto di ottobre. Entriamo un po' nel merito del lavoro che fate in particolare con Walter Viola anche se anche Savoi appena arrivato già sette interrogazioni emozioni le ha messe lì però Viola in questo momento ha due disegni di legge invece in commissione anche due argomenti importanti che sono il cyberbullismo e il cosiddetto dopo di noi insomma chi si occuperà dei disabili che hanno genitori anziani partiamo da quello sul bullismo e cyberbullismo di che cosa tratta? Ma allora su questo ci sono praticamente più disegni di legge perché bisogna dire anche riconoscere ai colleghi la propria iniziativa che abbiamo riunito in un unico disegno di legge proprio stamattina lo affrontiamo in commissione ed è un disegno di legge in buona sostanza che cerca di fare conti con questo fenomeno purtroppo molto diffuso nelle scuole insomma nell'età scolare dei nostri ragazzi che appunto il bullismo e il cyberbullismo con vari strumenti innanzitutto una cabina di regia che mette assieme tutti i soggetti scuola non scuola un consiglio dei giovani genitori forte dell'ordine provincia eccetera per come dire mettere in campo tutte le iniziative atte a prevenire questo fenomeno e poi anche laddove questo fenomeno viene riconosciuto e quindi è conclamato porre degli strumenti insomma per farci conti insomma oggi ci sono dei deficit a livello formativo sia a livello scolastico che delle famiglie perché affrontare certi temi evidentemente si è molto indifesi molto nudi insomma rispetto a questa nuova tipologia di fenomeni molto gravi per i nostri ragazzi per cui è un diciamo che è un disegno di legge che una volta provato da una mano in più alle famiglie e alla scuola che è l'altro istituzione fondamentale per i nostri ragazzi per fare i conti con questi fenomeni come si può fare ma innanzitutto formando educando e interagendo con tutti i soggetti del cosiddetti portatori di interesse come dicevo poc'anzi perché siano edotti insomma di come accadono certi fatti di come possono essere prevenuti e di come insomma in qualche modo anche questi ragazzi vanno formati perché capiscano di cosa si tratta capiscano a cosa vanno incontro capiscano evidentemente come possono cadere in certi trappoloni che però poi il web non va preso con leggerezza fondamentalmente perché uno pensa di essere da solo col suo telefono invece in realtà in piazza esatto bravissima e devo dire che abbiamo avuto parecchie audizioni in commissione tra le quali audizioni di vari soggetti tra i quali la polizia postale devo dire che in Trentino i fenomeni conclamati e però denunciati non sono tantissimi a differenza di altre aree d'italia però questo non toglie fatto che di solito quanto è denunciato la punta di un iceberg insomma e che invece c'è sotto tutto un come dire tanti fenomeni che riguardano questi fatti questi fatti insomma che vanno assolutamente guardati con attenzione devo dire che c'è stata anche da parte di coloro che sono venuti a parlare in commissione si chiamano no coloro che hanno titolo dalle famiglie giovani e da appunto dalla questura a tutti i soggetti hanno dimostrato un grande interesse su questo su questa iniziativa e anche la volontà di metterci la propria parte perché questo appunto questo fenomeno si è ridotto il più possibile perché poi evidentemente è un segno dei tempi non è facile comprimere del tutto. Savoia è rientrato in consiglio il 10 aprile sono già sette interrogazioni come primo firmatario la primissima tra l'altro danno ambientale prodotto dalla presenza di schiume di quami nel torrente rio san romedio prima quell'interrogazione lì come mai? La prima cosa che farò nel consiglio provinciale ma adesso sto riprendendo un mano tutte le cose diciamo non in evasi che aveva lasciato il mio collega perché come sapete nel momento in cui uno entra tutte le interrogazioni emozioni e i disegni di legge decadono questi pochi mesi in particolare quando faremo il bilancio cosiddetto tecnico tra luglio e settembre e cercheremo di fare in modo che le risorse che la provincia avrà e che sicuramente metterà a disposizione questi uomini vadano veramente a sostegno dei trentini delle famiglie trentine che ci siano perché noi è vero critichiamo tanto la provincia giustamente noi siamo una minoranza e quindi dobbiamo evidenziare le cose negative che non fanno non è che tutto non va bene per carità però ripeto con le risorse che abbiamo che nonostante siano calati in questi anni sono ancora sufficienti e buone per la nostra provincia noi crediamo che la provincia la giunta provinciale possa indirizzare e andiamo anche come fare qualche rimedio su per quanto ci riguarda errori fatti in questa legislatura perché noi crediamo che alcune scelte che la giunta provinciale ha fatto questa legislatura sia state scelte sbagliate ad esempio l'ospedale di Cavalese fra queste dieci interrogazioni c'è l'ospedale di Cavalese appunto la richiesta di l'ospedale di Cavalese così come gli altri ospedali è diciamo una battaglia sulle sanità io credo che l'assessore zenia abbia fatto sette sbagliate sui ospedali di Cavalese di Borgo di Tione di Arco quindi i famosi punti in assita eccetera eccetera e quindi noi crediamo che se si vuole c'è la possibilità sperando poi di avere anche la collaborazione da Roma perché poi come sappiamo tante cose dipendono anche a livello nazionale di poter avere in modo che la gente delle valli possa avere quei servizi essenziali dalle Cavalese punti in assita e le guardie mediche che noi crediamo che siano temi importanti per la gente ripeto anche se non rientriamo nei parametri fissati dallo Stato ma noi siamo consapevoli che spiegandole da bene cercando la collaborazione ripeto della provincia e dal prossimo governo che nascerà speriamo in quel di Roma di poter fare qualcosa di positivo per la gente ci aspetta di avere i stessi diritti stessi servizi chi abita nella periferia chi abita in città è quello che la gente tante volte si arrabbia perché non tutti vogliono giustamente andare a trento a farsi curare a perdere tempo a mettere due ore in macchina per arrivarci per intasare magari la stessa città e ospedale noi crediamo che sulla sanità veramente si deve veramente lavorare sodo e speriamo veramente che la sessualizia in questi ultimi mesi possa raddrizzare qualche scelta che ripeto per noi non è stata completamente sbagliata. Viola è possibile lei che è nel PTT adesso in maggioranza è possibile dare gli stessi servizi a tutti ma allora noi non è che abbiamo una sanità così male insomma i dati della genas che l'agenzia nazionale della sanità che come dire monitora la qualità della sanità non è che si dica che abbiamo una sanità anzi dice che abbiamo una buona sanità è ovvio noi abbiamo un territorio orograficamente molto particolare ricordo che proprio oggi l'assessore dell'esuope dell'alto adige alla sanità dice di lasciare la politica proprio per i problemi riscontrati nella sanità cioè lo dico perché perché evidentemente gestire la sanità in un momento come oggi non è avventura semplice almeno per due ordini di fattori uno perché si interseca fondamentalmente con un sacco di come dire di competenze di dettami che vengono da Roma cioè dal livello nazionale due perché effettivamente il problema è dare una qualità di servizio importante a prescindere dal territorio in cui un cittadino abita ed è una sfida effettivamente non semplice da fare cioè ricordo anche tutta la questione dei punti nascita faccio un esempio su tutti che è quello di Tione insomma i parti erano così pochi che ci sono state parecchie problematicità sui parti avuti anche nell'ultimo anno in cui il punto nascita era era aperto per cui il problema non è a mio modo di vedere con molta umiltà lo dico nel senso che qui io capisco le posizioni di tutti ma la questione vera è dare un servizio di qualità a tutti capendo che orificamente certe zone sono distanti e quindi certi servizi vanno dati là dove si è però capendo anche che insomma la qualità del servizio è importante cioè non è che si possa dire non basta aprire un reparto perché quel reparto sia uguale al reparto che c'è a Santa Chiara o a Roveretto o da un'altra parte del Trantino il problema è che quel reparto sia adeguatamente funzionale e capace di rispondere se questo non è bisogna capire perché come già accade poi tornando ai punti nascita quelli da Val di Fiemme vanno a partorire a Volzano quelli da Val di Fassa anche insomma alla fine la gente decide prima di quello che vuole la politica chiaro se ci fosse un servizio di qualità forse le cose cambiano però anche quando il punto nascita era aperto basta guardare i dati i dati dicono che non si fermavano in valle a partorire o meglio se ne fermavano pochi rispetto alla totalità della popolazione è da dire anche che i comitati che chiedono a gran voce la riapertura dicono che la gente se ne andava perché già c'era stato un depotenziamento secondo loro si potrebbe tornare ai numeri di primanzi addirittura verrebbero i pristi dicono a partorire a Cavalese questione insomma ampia e complicata appunto è ampia e complicata però bisogna sempre fare i conti con l'oste e l'oste in questo caso è il fatto che succede innanzitutto il parto non è una malattia insomma è un fenomeno assolutamente naturale però che potrebbe avere molte complicazioni le molte complicazioni hanno bisogno evidentemente di un tutta una situazione di servizi all'interno dell'ospedale e anche di professionalità all'interno dell'ospedale che non sono di poco conto per cui insisto l'oste vero è la mamma è nascituro e bisogna fare interessi loro dopodiché io ho tutta la stima per tutti i comitati del mondo però bisogna fare i conti con la realtà e insisto su queste cose tra l'altro c'è anche molto di Roma dopodiché se le cose fanno come devono si riaprirà però è stata una situazione devo dire a delle pecche a livello di comunicazione a livello di procedura a tanti a tanti livelli dopodiché bisogna guardare qual è l'interesse principale arrivano due eventi importanti a Trento la donata degli alpini da una parte il gay pride dall'altra allora viola non ho dubbi di dove sarà perché l'abbiamo vista col cappello d'alpino è anche un ufficiale tra l'altro degli altini sa voi a lei faccio una domanda più politica ha fatto bene o male rossi a non dare il patrocino al pride ma abbiamo fatto discorsi polemiche inutili visto sul mio conto ritengo che ci sono e noi rappresentiamo io credo come lega come centro destra in generale valori che sono una cosa rispetto a altri valori che altre forze politiche o altre ideologie portano avanti noi crediamo che parificare la donata del 13 maggio degli alpini a Trento con il loro miti price sia sbagliato rispetto io rispetto tutti ormai si rispetti tutti però credo che non si possa fare di tutto dire che gli alpini che sfilano piazza domo sono uguali a quelli che fanno la carne balata due settimane dopo davanti alla stessa piazza davanti alla stessa chiesa davanti alle stesse persone quindi io credo rispetto di tutti ma io penso che giustamente presidente rossi abbia non concesso il patrocinio perché ripeto sono cose differenti gli alpini rappresentano l'orgoglio del trentino stesso visto che siamo il gruppo di alpini più numeroso d'italia io sono un alpino peraltro e sappiamo quanto volontariato fanno gli alpini in ogni paese in ogni frazione del trentino c'è un gruppo di alpini ogni volta che gli alpini stati chiamati a collaborare con l'amministrazione o perché c'è una disgrazia qualcosa gli alpini a sempre a corsa a sostenere perché hanno nel loro cuore una generosità insegnata dalla nostra storia dei nostri valori ripeto io rispetto gli altri ma non potevano certo pretendere che rappresentavano diciamo valori come loro li rispettiamo chiaramente io andrò all'adunato gli alpini non andrò certo addormiti però ripeto un po di distinzione va fatta tant'è vero che presidente rossi giustamente ha rifiutato il patricinio lei viola andrà a tutti e due fatto bene o male a non dare il patrocinio io vado sicuramente all'adunato sono sempre andato anche quando era fuori dal trentino figuriamoci se non ci vado quando è a trento sono fiero dell'appartenenza all'associazione nazionale alpini e al fatto di quanto questa associazione abbia dato e stia dando al nostro trentino ricordiamoci che la protezione civile insomma deve molto agli alpini ai nuvola nasce tra l'altro con terremoto del 76 a gemona con una grande protagonismo della loro abertagnoli che era presidente nazionale dell'ana che di mezza corona e che giovedì prima della della donata vera e propria che la domenica verrà ricordato a mezza corona insomma ci sono tanti fatti che dicono di una riconoscenza di una grande partecipazione che questo evento avrà ma sta nelle cose io sul dolomiti pride non ho nulla in contrario cioè ognuno faccia ciò che crede in piena libertà e coscienza nel rispetto di tutti io come ho sempre detto in aula ancora di quando c'è stato il disegno di legge famoso ma anche su altre situazioni che ci sono poi susseguite nessuno però è più uguale degli altri tutto qua io non come dire sono pronto a tutto perché venga riconosciuta la dignità di ognuno ma questo non vuol dire che qualcuno è più uguale degli altri e con molta sincerità certe prese di posizioni certi documenti fatti anche perché i documenti personalmente almeno io ho anche letti insomma ci sono delle considerazioni delle proposte delle affermazioni che vanno ben oltre la difesa della dignità delle singole persone ma vanno su altri ambiti e su altre situazioni che oggettivamente nel rispetto totale non condivido insomma no allora ognuno è uguale agli altri ma nessuno non è solo quello cioè ricordo che Rutelli che non era certo insomma è uno è uno dei fondatori del partito democratico e appunto in qua è insomma esponente del sinistra prima era radicale per cui radicali sappiamo benissimo le battaglie che hanno fatto era il pupillo di pannella e comunque non ha riconosciuto patrocini nell'anno del giubileo non diede il patrocini al pride quindi abbiamo due minuti volevo farla parlare dell'altro disegno di legge sul fine vita invece ci chiedere anche a Savoia adesso di cosa si occuperà da qui a ottobre ma come dicevo prima cosa importante nel famoso bilancio tecnico in cui avremo risorse in cui la giunta ha disponibilità alcune buone risorse noi crediamo che vada incentivata e ho visto che per fortuna qualcosa si muove edilizia noi sappiamo che l'edilizia con la crisi del 2008 è stata fortemente penalizzata anche in Trentino e se non funziona il settore dell'edilizia evidentemente va in crisi tutto quel mondo che li gira attorno e quindi noi crediamo che vadano fatte gli incentivi alle imprese, incentivi alle industrie, incentivi anche sul turismo talvolta bolemiche apertura, chiusura, traffico non possiamo pretendere che arrivino in Trentino migliaia di turisti e poi magari condizionarli di non poter andare sui passi di domenica o il traffico limitato quant'altro non possiamo pretendere e anche sulla viabilità perché evidentemente se in Trentino arrivano migliaia di turisti hanno anche bisogno che quando arrivano a casello di Trento anziché a Rovaretto anziché altre parti possano agevolmente arrivare in zone di turistiche. Non trovino il tappo di muori che si mette poi due ore a arrivare. anche una volta che decide di arrivare in Trentino arrivarci una volta a un sito d'autostrada in tempo e poi evidentemente sono quelle giornate caotiche ma ripeto certe strade credo che siano importanti fare e quindi sia per l'economia che per il turismo. Vedo con favore che la giunta provinciale dopo vent'anni ha fatto una partita per la valdastica credo che sia importante che quella. Abbiamo pochi minuti, mi scusi Savoy se devo interromperla perché volevo parlare anche dell'altro disegno di legge che ha in commissione quello sul fine vita, argomento chiedo scusa, sul dopo di noi l'Apsus e appunto che cosa propone ma sostanzialmente guardi nel 2000, cioè un paio di anni fa a Roma è stata approvata la legge 112 la legge 112 si chiama la legge del dopo di noi sostanzialmente per i disabili che rispetto ai quali le famiglie fanno fatica a tenerli in casa si tratta di mettere insieme tutta una serie di strumenti soprattutto a livello di co-housing cioè di coabitazione perché possono avere una vita dignitosa con l'attenzione che devono avere con progetti individualizzati che devono avere che vadano oltre appunto i genitori stessi anche perché oggi i disabili psichici hanno propensione di vita molto più alta del passato insomma questo è un problema reale chiaramente noi abbiamo un'autonomia e questo vuol dire che anche nella fattispecie norme nazionali non sono applicate abbiamo insieme ad altri colleghi proposto un disegno di legge che faccia i conti con questa pregevole iniziativa nazionale chiaramente adeguata al contesto nostro e puntando moltissimo su esperienze già in essere sia da parte di cooperative che di associazioni dedicate ai disabili che vogliono evidentemente dare questo servizio che sgrava le famiglie nel contempo tra l'altro oltre ad avere una grande capacità di stare i conti con la persona disabile e con le loro famiglie che chiaramente sono coinvolte anche se sono sgravate tra l'altro c'è anche un problema di costo molto minore per la provincia perché tra le rette della residenzialità non viene a volte il cittadino non capisce dice ma assurdo pagare tanto per ospedalizzare quanto tenendo a casa costerebbe meno purtroppo non abbiamo più tempo Viola seguiremo col telegiornale grazie per essere stato qui stamattina grazie anche a Savoy buon lavoro e grazie a voi che ci avete seguiti alle 12.45 con il prossimo TG grazie a tutti